Ciao, sono Michele Righetti. Oggi facciamo il brano numero 21 della raccolta dei 24 pezzi dal libro di Anna Magdalena Bach. Questa è un'aria in tonalità di Fa minore. Questa tonalità è abbastanza complessa poiché presenta quattro bemolli in chiave, Si, Mi, La e Re bemolle. Questo fatto la rende abbastanza complicata nel suonarla, ma essendo questa aria abbastanza lenta e non presentando particolari difficoltà tecniche è fattibilissima per le persone anche non particolarmente agili con le dita. È assai moderato. Il titolo dell'aria è Varun Betrubst Dummisch è un'area popolare all'epoca di Bach, appunto. Quindi Bach ha trascritto questa aria sul quaderno di Anna Magdalena facendo probabilmente il contrapunto con il clavicembalo. Quindi, come al solito, la melodia andrebbe cantata con la voce, mentre invece il clavicembalo, nella versione originale del libro di Anna Magdalena, fa una parte solamente suonata di accompagnamento. In questa versione, invece, il pianoforte fa la melodia che andrebbe cantata con la voce, con la mano destra, mentre invece la mano sinistra fa effettivamente la mano sinistra che ha scritto Bach per questa per quest'aria. Bene, adesso andiamo a suonare prima a mani separate e poi a mani unite. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.